Ciao a tutti, bentornati sull'antimeta, siamo in Lorenz e oggi siamo qui con una nuova puntata di Analizziamo il vostro Commander, puntata vinta da Scorpio87 e quindi ci ha portato il suo mazzo Tsunami Zombie, mazzo capitanato da Willed Rout Cleaver, il comandante di Midnight Hunt, caccia di mezzanotte, un buon comandante per un mazzo a zombie, molto forte, comandante di un precostruito potenziato a bomba. Allora, come sempre non abbiamo la domanda, quindi, ok, allora, la domanda di questo contest sarà, qual è l'espansione che attendete di più in questo 2024? Allora, sono usciti tutti i video di analisi spoiler fino al momento, quindi se non li avete visti li recuperate e ci fate sapere l'espansione che attendete di più, visti i primi spoiler e le prime impressioni. Per me era Fallout, ma anche se non è l'espansione in sé, ma sono dei mazzi, però io volevo quelli. Ci sta, a me Blomburro mi ispira tanto con quegli animaletti lì, anche se anche fuori legge non è male, però insomma, Blomburro per me è quella che aspetto di vedere di più con mano, che può avere le cose più scottanti. Allora, detto questo, lasciate un like al video per supportare il canale. E niente, allora, procediamo. Allora, Willett, Deroth, Cleaver, quando un altro zombie che controlli muore, se non aveva decomposto, crea uno zombie 2-2 con decomposto. All'inizio della tua instab, se puoi sacrificare uno zombie, se lo fai pesca una carta. Ok. Quindi, classico comandante zombie che lavora col cimitero, che continua a fare zombie, e via dicendo. Allora, due planeswalker, Liliana Vess, costa 5, più 1, un giocatore scarta una carta, col meno 2, cerchi nel tuo rimorio una carta, rimescola il rimorio e mettila in cima. Col meno 8, metti tutte le creature da tutti i cimiteri sul campo di battaglia sotto il tuo controllo. Che non è male. 5 segnalini fedeltà, diciamo che è ottima per tutorarsi qualcosa, anche perché poi difficilmente resterà in vita. Difficile sempre. Liliana, intoccata dalla morte, più 1, metti le prime tre carte del tuo rimorio, nel tuo rimorio il tuo cimitero. Se uno di quelli era zombie, ogni avversario prende due vite, tu fai due vite. Meno 2, una creatura, bersaglio, prende meno X, meno X, fino a fine turno, dove X è il numero di zombie che controlli. E meno 3, puoi castare zombie dal tuo cimitero in questo turno. Che non, insomma, ci sta, comunque fa un po' di cosine, quindi non è male. Fa un po' di value random. Comparto creature, Archigul of Traven. Costa 3, è un 3-2. Quando lui ha un altro zombie che controlli e muoiono, guarda la prima carta del tuo rimorio. Se ha uno zombie, puoi rivelarla e aggiungerla alla tua mano. Se non la metti nella tua mano, puoi metterla nel cimitero Yumei. Quindi, questa è molto forte. Sì, ti fa vedere la prima carta. Questa è molto forte da promessa Cremisi. Carrion Feeder. Zombie, 1-1, costa un nero, non può bloccare. Sacrifica una creatura, metti un più 1-1 sul Carrion Feeder. Ok. Sacrifichi gli zombie con decomposti, o quando ti bersagliano altri, sacrifichi e metti su di lui il più 1 per fare un po' di valore. Non male. Cemetery Reaper, costa 3-2-2. Gli altri zombie che controlli prendono il più 1-1. Tappa 3, tappalo. Esilia una creatura a bersaglio da un cimitero. Crea uno zombie 2-2 token. Ok. Forte anche questo. Poi, come qui, si sarà pieno di Lord, naturalmente. Champion of the Perished. Costa un nero, 1-1. Quando ogni volta un altro zombie entra nel campo di battaglia all'assoluto controllo, metti un più 1-1 sul campione. Quindi, classico effetto simil campione. Corpse. Harvester. Costa 5. Tappa 2. Tappa. Sacrifica una creatura. C'è anche un altro grimoire per uno zombie. e una palude. Rivelale, mettenele in mano. Esatto. Poi, pescola la grimoire. Forte. Sacrifica una creatura, ti tutori un zombie e una palude. Costa 5, devi sacrificare, tappare la mano. Però, insomma, fa un bel effetto comunque. Ti tutora zombie e palude. Quindi, non male. Squid Breaker. Sì, bellissimo questo. Famosissimo, costa un nero 1-1, tappa 2, lui scarta una carta, metti uno zombie, crea uno zombie 2-2 token sul campo di battaglia. Poi, se tappi 3 zombie stappati che controlli, puoi pescare una carta e perdere una vita. Quindi, effetto, abilità attivata, bypassa la debolezza di evocazione, è molto, molto, molto forte. Poi abbiamo il Death Baron, costa 3. Gli scheletri dei controlli e gli altri zombie dei controlli prendono più 1-1 e tocco letale. Questo è pericoloso. Questo è 3-2-2, questo è un super lord. Diregraf Captain, costa 3, di cui un blu, è un 2-2. Tocco letale, gli altri zombie che controlli prendono più 1-1, ogni volta uno zombie che controlli muore, un avversario perde una vita. Ok. Poi c'è il Diregraf Colossus, costa 3-2-2. Quando entra in campo di battaglia, cioè entra in campo di battaglia con segni più 1-1 per ogni zombie nel tuo cemitero. Una volta lanci uno zombie, metti una pedina zombie 2-2 sul campo di battaglia tappata. Che anche qua non è assolutamente male, considerando che col comandante e quegli zombie 2-2 poi diventano degli zombie con decomposto. Phil Stinger, costa 3-2. Detta, cioè exploit, quindi quando entra puoi sacrificare un'altra creatura. Se hai exploitato, un giocatore pesca due carte e perde due vite, quindi possiamo farlo su noi stessi. Sacrifichiamo uno zombettino. Poi abbiamo Glaming Overseer, costa 3, è un 1-4. Quando entra in campo di battaglia, massa 1, massa esercito 1, quindi la pedina con un sincino più 1. Gli zombie pedine che controlli hanno antimolochi minacciare, non è male. Molto forte, considerando che qua se ne fanno affiote di zombie. Poi, allora, dove eravamo arrivati? Ho perso il segno. Grave Titan, costa 6-6-6 detta. Quando entra o attacca, metti due zombie 2-2 sul campo di battaglia. Quindi anche questo qui, non male, super sinergico, un po' costosetto, ma molto molto forte. Poi Grave Clowler, costa 1 nero, 2-1. Non può bloccare, puoi lanciarlo dal tuo cimitero fino a che controlli uno zombie. Chiaro. Anche questo qui, poi vi faremo vedere, fa una combo per shottare gli avversari, che ci ha fatto vedere Scorpio. Mercante grigio di Asfodero lo lasciamo. Oh, bellissimo. Che roba. Questa 5-2-4, quando entra nel campo di battaglia, ogni avversario perde x vite, dove x è la tua devozione al nero, guadagni altre tante vite. Vite, pare il numero di vite perse in questo modo, quindi se c'hai più avversari, ne guadagni tante. Esatto, perché se ognuno perde 5 vite, tu ne guadagni, se ne sono 3 avversari, 15. Fantastico. Poi, Grim, Corpse, Born. Grim, Corpse, Born. Creatura leggendaria, zombie, guerriero. Allora, facciamo così, che intanto che io lo cerco, che robe ci legge? L'altro. Headless Rider, costa 3-3-1. Ogni qualvolta lui o un altro zombie non pedina di controlli muore, crea una pedina zombie 2-2 nera. Beh, questo qui non è male, perché ci permette di avere sempre in campo comunque un riciclo di zombie. Allora, il Grim, Corpse, carta di Innistrad, costa 5, è un 5-5, questa qui è l'art, quella da Secret Lair. E allora, zombie guerriero 5-5, appunto, entra nel campo di battaglia tappato e non stappa durante il tuo un-stap step. Sacrifica un'altra creatura, stappa il Grim, Grim e metti un più uno più uno su di esso. Quando attacca, distrugge una creatura contrattata dal giocatore in difesa, poi metti un più uno più uno sul Grim, Grim. Eh, sono mica male. Fa un po' di... È abbastanza cattivo. Fa un po' di tutto, molto pericoloso, sarà una bella vittima per i nostri avversari. Lich of... Lich Lord of Unks, costa 3-2-2. Tappa 2, tappalo, metti... Zombie Mago 1-1-1. Zombie Mago 1-1. Ok. Crea uno Zombie Mago 1-1-1. Mai visto lo Zombie Mago, però va bene. Poi tappa 2 blu e 2 neri, un giocatore per sempre perde X vite e mette le prime X carte del suo Grimori nel suo cimitero dove X e non rizzoni i controlli. Ah, ok. Fa macinare. Può essere pericoloso. Lord of Accursed, costa 3-2-3. Gli altri zombie hanno più uno più uno. Tappa 2 e lui, tutti gli zombie hanno minacciare fino a fine turno. Quindi anche questo qui non male per un attacco definitivo. Signor de los Muertos, Vivientes, quindi Lord of the Undead, costa 3. Gli altri zombie hanno più uno più uno, prendono più uno più uno, fa da Lord. Tappa 2, tappalo, fai tornare una carta zombie bersaglio dal tuo cimitero nella tua mano. Ok. Non sappiamo lo spagnolo, l'abbiamo studiato prima perché abbiamo visto che era in spagnolo. Insomma, si capiva abbastanza bene perché regressa la carta obiettivo dei zombie del tuo cimitero a tua mano. Lo saprai te che sei andato al Magicon a Barcellona? Ma insomma, non serve andare al Magicon di Barcellona per capire che lo spagnolo è quasi italiano. Ebbene, ma una carta obiettivo, cioè... Una carta obiettivo, dai! È oggettivo bersaglio, una carta oggetto. Oh, signore. Niente, andiamo col Midnight Reaper. Costa 3-2. Quando una crattura ha un token che controlli more, il Midnight Reaper fa un danno. Ti fa un danno e ti fa pescare una carta. Quindi occhio a non sacrificare troppo con questo Midnight Reaper, perché se no poi sono danni. Mikaeus, The Unallowed, costa 6, di cui 3 neri, 5-5. Intimidire. Ogni qualvolta un umano infeggiando il combattimento a te, distruggilo. Gli altri non umani che controlli prendono più 1-1 e Undying, quindi immortale. Quando muoiono, tornano sul campo con 1-1-1-1-1. Quindi anche Mikaeus fu fortissimo. Mordero Sider, carta appunto di Drone di Andrain. Allora, Mordero Sider di base costa 3 ed è un 2-3 con Lifelink, che quando muore lo metti in fondo al tuo Grimorio. Puoi lanciarlo all'avventura come un istantaneo Swift End, costo 3. Distruggi una crattura o un Planeswalker, poi perdi due vite. Quindi è a rimozione, poi va all'avventura e dall'avventura puoi giocare in Mordero Sider. Quindi ottima carta, perché in Commander queste sono molto utili, perché le carte che si riciclano fanno sempre bene. Già. Noxious Ghoul, quindi qui è arrivato un Secret Lair degli zombie, che come al solito, che roba ci reggerà l'Overchange. Overchange Amalgam, costa 4-3-3, volare e lampo, exploit, quando entra in campo di battaglia puoi sacrificare una creatura. Cos'era? Sfruttare, exploit. Non mi ricordo la traduzione, sì, però sacrifichi e... Quando entra, quando si sfrutta qualcuno, si sfrutta una creatura, countera una magia a bersaglio, un'abilità attivata, un'abilità innescata. Beh, insomma, mica male. Eh, potente. Countera qualcosa. Potente. Forte. Allora, Noxious Ghoul, possiamo adesso trovarlo. Costa 5, è un 3-3. Quando lui o un altro zombie entrano nel campo di battaglia, tutte le creature non zombie prendono meno uno, meno uno, fino alla fine del turno. Quindi, non male il Noxious Ghoul. Eh, insomma, tutte le creature non zombie, meno uno, meno uno, fino al fine del turno. È fortissimo, che qui continua a buttare giù delle pedine. Eh, dai, inizia a dare dei super meno uno, meno uno. Eh, quando in un turno ne fai già due o tre, rischi di shottare un po' di eserciti. Eh, pulisci, pulisci tante cose. Non male, non male. Poi abbiamo il Plug Belcher, costa 3, 5-4, con minacciare. Quando entra, metti due segnalini, meno uno, meno uno, su una creatura che controlli. Quindi, può essere lui come qualcun altro. Ogni qualvolta uno zombie che controlli muore, ogni avversario perde una vita. Ok. Poi, Puppet Slicer, costa 3, 2-3. In qualvolta lanci una mangia istantanea o stagonina, crea uno zombie 2-2 con decomposto. All'inizio del tuo mantenimento, se controlli tre o più creature in pedina, puoi trasformare il Puppet Stitcher. Diventa Puppet Factory, un artefatto che dice che le creature token che controlli perdono tutte le abilità e hanno forze e questioni base tra tre. Quindi, perdono il decomposto e hanno forze base tra tre. Quindi, invece, le due o due sono più forti. Che con i lore diventano ancora più grossi. Con le carte che danno i bonus ai token, ancora di più. All'inizio del tuo mantenimento, puoi trasformare Puppet Factory. Puoi, quindi. Sì, puoi. C'hai sempre la scelta. La scelta. Relentress Dead costa 2 neri, è un 2-2, minacciare. Quando muore puoi pagare un nero, se lo fai, fallo tornare in mano al suo proprietario. Quando muore puoi pagare X, se lo fai, fai tornare un altro zombie, creatura, con costo di mana convertito X, dal tuo cimitero, sul campo di battaglia. Molto, molto forte. Anche questo, come ci diceva Scorpio. Scorpio è a parte di una combo. A parte di una combona. Poi abbiamo il Roaming Throne, costa 4, ha un 4-4, egida 2. Quando entra, sceglie un tipo di creatura. Il Roaming è di quel tipo in aggiunta ai suoi altri tipi. Se un'abilità innescata di una creatura che controlli del tipo scelto, triggera, triggera una volta addizionale. Quindi tutte le cosine passive che ci sono. Se infliggi un danno nella salio, ne infliggi due. Con la Plague Belcher, quando un altro zombie che controlli muore, ne va solo perdere una vita, ne perderebbe due. Con Roaming Throne, quindi molto, molto forte. Poi c'è Seed Easy Undead Vizier. Vizier. Vizier, sarà. Sì, vabbè, comunque in inglese non è Vizier in inglese. Costa 5, 4-6, tocco le tale, exploit, quindi anche qui sacrifica o sfrutta. Quando sfrutta una creatura, puoi cercare nel tuo Grimorio per una carta, metterla in mano, poi mescolare. Molto, molto forte. Tainted Adversary, costa 2, dettaccia. Quando entra puoi pagare 3, di cui un nero, un qualsiasi numero di volte. Quando paghi questo costo una o più volte, metti altrettanti più o più uno sul Tainted Adversary, poi crea il doppio, creatwise, dead many, di creature zombie 2-2 con decomposto. Quindi se tu lo fai una volta, quindi pagando 5 in totale, diventa un 3-4 con 2 pedine decomposto. Se paghi invece 8, diventa un 4-5 con 4 pedine. Sì, 8. 8, 6 più 2, 8. Quindi anche questo qua, se hai il mana, più mana hai, più fabelio. Undead Augur, costa 2 neri, 2-2. Un amico al volta, l'Undead Augur, un altro zombie controlli, muore, puoi pescare una carta e perdi una vita. Undead Warship, costa 4. Le magie zombie che lanci costano 1 in meno per essere lanciate. Buono. Gli zombie prendono più 2-1. Forte. Quindi, super lord. Anche questo qui molto molto grosso. Vesper Ghoul, costa 3, 1-1-1. Tappo 1, pago una vita, aggiungi un mana di questi colori nella tua riserva di mana. Ok. Va in entombo, costa 4, 2-2. Detach, quando entra, cerchi nel tuo grano per una carta, metti nel tuo cimitero e poi rimescola. Questo qui è importante perché ci può mettere al cimitero delle carte per poi fare la combo che verranno rianimate dal cimitero. Molto 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 forte. Poi c'è Vogar Necropolis Tyrant, costa 5, 4-4. Minacciare. Ogni qualvolta un'altra creatura muore durante il tuo turno, mette un sino più 1-1 su Vogar. Quando Vogar muore, pesca carte per ogni sino più 1-1 che aveva. Beh, forte. Potente, potente. Poi abbiamo Wonder, che fa sempre bene. Wonder è l'invocation di Wonder of Rison 2, costa 4, 2-2, volante. Se hai nel tuo cimitero che controlli un'isola, le tue creature che controlli hanno volare. Quindi tutte le nostre pedine zombie volano oltre tutto, quindi molto molto pericolose. Poi c'è Zombie Master, costa 3, dice che tutti gli zombie in gioco ottengono passapalude e tappa un neo e rigeneralo. Fino a che lui è in gioco ed è un'abilità fortissima. Cioè è doppiamente forte perché te li fa rigenerare e te li fa andare su passaisole. Assolutamente. Anche questo va in combo con una carta. Altar of Demensia, costa 2, sacrifica una creatura. Un giocatore bersaglio, macina carte pari. Oddio. Pari alla creatura sacrificata. Aspetta, perché adesso non me ne fa più? Ok. E questa fa parte di una combo. Anche questo qua. Sigillo Arcano, lo conosciamo. Monumento a Bontu, costa 3. Le magie nere costano in meno. E quando lanci una creatura ogni avversario perde una vita e fai una vita. Diamond Carcol, qui intratappato aggiunge nero. Corno dell'Araldo, quindi questo qui in tutti i mazzi tribali è fortissimo, lo conoscete bene. Altar di Firexia, anche questa parte di una combo. Tappa 3. E fa fare mana. Sacrifico una creatura e aggiungo una mana di un qualsiasi colore. Qui avevo praticamente una combo, andiamo a vederla. Una combo consiste che con l'Altare di Firexia, che sacrificando una creatura ci aggiunge un mana e... Il Graveclawler. Il Graveclawler, che può essere lanciato dal tuo cimitero fino a che controlliamo uno zombie. Quindi con l'Altare di Firexia, sacrifichiamo il Graveclawler. Aggiungiamo un mana nero e rigiochiamo il Graveclawler dal cimitero. Ok, la combo per vincere è, ci deve essere in campo qualcuno tipo... Tipo il Plague Batcher. Il Plague Batcher, che ogni volta muore una nostra creatura, fa un danno a un avversario. Esatto, quindi Plague Batcher o Dyrgir Captain, che quando un altro zombie che controlli muoiono, fanno un danno all'avversario. Quindi noi rigiochiamo il Graveclawler infinite volte dal cimitero. Esatto, lui stesso si fa il mana per rilanciarsi dal cimitero. Esattamente. Al posto del, come si dice, del Graveclawler si può usare il... Oddio, come era? Rael and Thrust Dead. Perché quando... No, esatto, si può usare il Rael and Thrust Dead, beh ormai ci siamo già. Al posto del Graveclawler si può usare il Rael and Thrust Dead, se abbiamo in campo il Storm, dove era lo Storm, Storm, Storm in incantesimi, Roftup Storm, costa 6, puoi pagare 0 al posto di pagare il costo di mana degli zombie che lanciano. Perché il Rael and Thrust Dead, quando muore, possiamo pagare un nero. Con l'altare di Phyrexia, usiamo... Sacrifichiamo il Rael and Thrust, usiamo il nero dell'altare per riprendercelo in mano e lo giochiamo gratis grazie al Roftup Storm. Esatto. Queste sono le alternative. Come vedete, non sono combo instant win, perché hanno bisogno di tanti pezzi e sono facilmente rompibili. Quindi questa qui è una combo sana, anche perché è un qualcosa in più in questo mazzo. Ma direi di proseguire con i nostri artefatti. Naturalmente c'è il Sol Ring, talismano della dominazione. Finiti qua. Allora, 4 istantanei. Arcane, Daniel. Costa 2. Counter una magia a bersaglio. Il suo controllore può pescare fino a 2 carte all'inizio del suo prossimo mantenimento. Tu peschi una carta all'inizio del tuo prossimo mantenimento. Esattamente. Bell counter. Dramatic Reversal. Costa 2. Stappa tutti i permanenti. Non terra che controlli. Questo qui, ottimo. Infernal Grasp. Costa 2. Destroi tra le creature. Ok, disegno una creatura per due vite. Malachia Revert. Fortissima perché occupa lo spazio di una terra. Perché noi possiamo girarla. Ed è una terra che entra tappata e aggiunge nero all'occorrenza se pescata nei primi turni. Oppure è un istantaneo molto forte che a costo nero ci fa scegliere una creatura a bersaglio. Perdiamo due vite. Fino alla fine del turno quella creatura, quando questa creatura muore, fa la tornare in campo tappata. E infatti, come vedete, su Car Market 3,84€ per una Uncommon di Battlefront. No, non Battlefront, di Zendika Rising. Quindi noi vi consigliamo di recuperare queste carte di fronte di Zendika Rising prima che schizzino i prezzi. Anche perché, non so se le ristamperanno, comunque sono carte molto specifiche per quell'espansione perché sono flippabili e devono trovare un modo di ristamparle in modo massivo all'interno dell'espansione. E in Commander sono forti perché togliete una terra, mettete questa e sacrificate una terra base o scarsa per avere un valore aggiunto in partita in corso. Stragonerie. A Gardens a Viking. Costa tre neri con X. Fa tornare dal tuo cimitero, sul campo di battaglia, un qualsiasi numero di creature che hanno un differente costo di mana convertito o inferiore. Let have a different converted mana cost X. Che ognuna ha un costo differente di mana convertito X o meno. Quindi se l'X ha 10, una da 9, una da 8, una da 7, una da 6, una da 5, una da 4, una da 3, una da 2, una da 1. Io l'ho capita così. Serve parecchio mana. Entra in campo, se quando entra puoi pagare 3 litre, se non lo fai entra tappata. Ok, è sempre un'altra terra. Quindi è la versione upgradata del Maraki Rebirth. Esatto. Perché infatti questa è mitica, quella là è uncommon. Però questa qui infatti costa anche un filino di più. Se i dati car market di Mana Box sono attendibili al momento. Poi, Army of Damned, costa 8 di cui 3 neri, crea 13 zombie di due tappati e flashback a 10. Quindi, ok, onesta. Poi Damnation, costa 4, restituite le creature, non possono essere rigenerate. Tutora demoniaco, passa in assene il Grimorio per una carta, la aggiunge alla mano e rimescola il Grimorio. A costo 2, non è assolutamente male. Distant Melody, costa 4, scegli un tipo di creatura, pesca carte per ogni permette di controlli di quel tipo. Fortissima, super peschino. Live in Death, costa 5, ogni giocatore esilia tutte le creature dal suo cimitero, poi sacrifica tutte le creature che controlla. Poi metti tutte le carte esiliate in questo modo sul campo di battaglia. Ok. Disastro. Unmarked Grave, costa 2. Cercano il tuo Grimorio per una carta non leggendaria, mettila in mano, poi mescola. Tutorino classico, ma che serve per prendere quei pezzi stupidi delle combo. Zombie Apocalypse, costa 6 di cui 3 neri, fai tornare tutte le creature zombie dal tuo cimitero sul campo di battaglia tappate e poi distruggi tutti gli umani. Qua ci stai in un mazzo di questo tipo, è onesta. Incantesimi. Poi c'è il Dettami di Erebos, fantastico, costa 5 con flash, ogni volta una creatura ai controlli muore, l'universale lo significa una creatura. Grave Pact, costa 4. Ogni volta una creatura che controlli è messa in un cimitero dal gioco, ogni avversario sacrifica una creatura potente. Impressioned in the Moon. Impressioned. Impressioned, ah ok. Impressioned in the Moon, costa 3. Incanta creatura, terra o planeswalker. Per mente incantato è una terra in colore che aggiunge e emane in colore per tutte le altre abilità. È tutto, niente, niente. Top più in comandante avversario. Macro Duality, costa 4, ogni volta uno zombie entra nel campo di battaglia e al solito controllo crea un token che è una copia di quella creatura. Fantastico. Fortissimo. Wroth Top Storm, l'abbiamo già vista prima. The Method Massacre. Il gancio da carne del massacro. Costa 2 neri e X, ogni volta, quando entra nel campo di battaglia, ogni creatura prende il minx, minx, finiturno. Ogni volta una creatura che controlli muore, ogni avversario perdi una vita, ogni volta una creatura che un avversario controlla muore, tu fai una vita. Questa è utile anche per la combo, per sostituire uno dei pezzi che abbiamo visto prima. Terre, cabal coffer, tappa 2, aggiungi nero per ogni palude che controlli. Castello di Lothman. Entra tappato, aggiunge nero. Entra tappato se non controlli una palude. Entra tappato se non controlli una palude, ma diciamo che probabilmente... Entra tappato. Entra tappato. Tappando 3, tappando lui, pesca una carta, poi perdi vita e parla il numero di carte nella tua mano. Poi c'è la cavera delle anime. Per non farsi counterare, il pathway nero e blu, che ci sta. Torre di comando. Crypt of Adegrim. Entra tappata. Tappa 2, tappala, aggiungi nero al tuo monopool per ogni creatura nera nel tuo cimitero. Beh, è onesta. Bella bella. La Bounceland, la Checkland, la Pozza Fetida di Coso, di Amon Cat, che è la Cicli. Sì. Field of the Dead, questa è una signor terra. Quando lui o un'altra terra entrano nel campo di battaglia, assoluto controllo. Se controlli 7 o più terra e con nomi diversi, crea uno zombie 2-2. Che è questo qui potente. Mimic Pool, ok. Odwara, Otawara. Otawara. Ci permette di far tornare in mano scartandola con Channel, un qualcosa. Insomma, è un qualcosa in più, diciamo. Patov Ancestri. Io non la comprerei assolutamente a questo prezzo, anche perché è giocata, cioè la giocano in standard, la giocano in tanti formati. Quindi, se ce l'avete bene, se no si può schippare tranquillamente. Patov Ancestri, bene. Ferexian Tower, tappa, sacrifica una creatura, aggiungi due neri. Non male. Questo qui serve per aggiungere un mani di un qualsiasi colore per lanciare una magia creatura del tipo scelto. Questa entra a Stappa, Tashizo. Tappa nero è lui, una creatura leggendaria, prende paura. Ok, quindi entra quasi imbloccabile. Sank and Allod, ok. Tainted Isle, tutte le carte doppie, ecco. Takenuma, stesso discorso per Rotawara, anche questa qui. Sì, 1.300 ci riprende in mano una creatura Open Swalker. Forse questa è un pochettino più forte per il tipo di mazzo, perché ci può riprendere in mano delle creature utili per fare combo, per fare effetti molto molto forti. L'altra rimbalzi in mano qualcosa una volta, non è che sia così determinante. Unborg. Tutte le terre sono isole, sono paludi, aggiungi due altre tipi. Che va in combo con lo Zombie Master. Esatto, lo Zombie Master permette di dare passapaludi a tutti e quindi li rende imbloccabili e quindi dovresti eliminare chiunque. Vesuva, quando entra in gioco puoi scegliere una terra in gioco, se lo fai Vesuva entra tappata e diventa una coppia di quella terra. Ci sta. Ok. La Shockland e Witch Cottage, entra tappato a meno che non controlli tre o più paludi. Se entra stappato metti una carta creatura bersaglio dal tuo cimitero in cima al tuo Grimorio, quindi ti rimbalzi qualcosina in cima, non è male. Già. Un'ottima terra per rimarsi fino a due colori, perché con più colori poi diventa un po' complicata. Qui vediamo la curva di mana che è fatta molto bene, come vedete. Fa un'ottima curva. Uno, due, tre, poi scende. Dove c'è una bella concentrazione di carte a tinero. Soprattutto si è notato. E poi appunto di carte a costo basso, quindi anche di terre ne abbiamo 34, non è un numero esagerato e va bene così. 34 barra due, perché ci sono quelle che si girano, che occupano lo spazio. Ecco, volendo, cioè consiglio, si poteva anche togliere un'altra terra base, considerando che queste in emergenza ci fanno da terra. Queste carte qui le possiamo considerare delle mezze terre, quindi in un conteggio con una curva di mana abbastanza bassa. Così, se volete rinunciare a un paio di terre, visto che ci sono quelle flippabili, io magari mi spingerei anche a 32 terre, vista la situazione. 32, con queste due qua sono 33, 32 più due mezze sono 33, ci sono gli artefatti, è tutto a costo basso. Quindi io potrei anche usare... Sì, diciamo che poi con l'altare di Frexia e altre cose che ti fanno fare mana sacrificando, diciamo che potresti anche sopperire. Sì, diciamo che la maggior parte delle cose sono a costo basso, perché 22 e 13 fa 35, 41 carte, 41 carte meno 30 terre, sono quasi tutte, sono a costo basso, 5, 14, 25, due terzi del mazzo sono sotto i tre mana, quindi insomma ci sta. Niente ragazzi, ora questo qui è il mazzo di Scorpio, molto bello, perché ci sono dentro delle combo sane, complesse da fare e comunque facilmente rompibili, ma che se riescono danno tanta soddisfazione. E se riescono l'avversario non può dire, eh hai fatto la combo, perché comunque se la riesci a fare questa combo qua, un po' di colpa ce l'hai, perché una rimozioncina, qualcosa del genere, tutti ce la possono avere, devono avercela nei loro mazzi. Devono avercela. Se giocate Elfi dovete vincere prima. Dovete vincere prima addirittura. Niente, allora direi che dall'antimeta è tutto, aspettiamo i vostri commenti numerosi, e andiamo verso fine mese, poco prima di Pasqua. Se Pasqua è il 31, quindi magari il venerdì o il sabato prima di Pasqua, faremo l'estrazione. Ci penso io tanto, quindi non ti... Se mi ricordo questo giorno sono andato in ritardo. Niente, signore direi che dall'antimeta è tutto. Al prossimo video.